Sto dicendo di nuovo sta mappa, poi mi sono ricordato di averla messa io Rimangono weak, boh, beh è da vedere in game, cioè ho capito che puoi fare quel baitino lì, però non è che lo puoi fare a spam credo Ma questo che si è fermato a guardarmi? Ma sono tutti qua sponati E adesso iniziamo col tp simulator, oh guarda non ti ho acceso 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 Ti prego basta Ma il gameplay di Sadako Mi hanno disattivato il totem del... oh guarda ti ho acceso Mi hanno disattivato il totem del... del cavaliere però Ok si è riattivato Ah guarda vedi sei già arrivato No mi hanno rotto cosa, immortale Fuck Tanto l'appendo Snake una tv accesa Eccola lì Si mettono troppo po' Forse dovrei togliere l'add-on che si ricaricano più velocemente le tv Perché sennò si ricaricano fin troppo velocemente addirittura Ce ne sono due condannabili addirittura Però una se ne va Se non ti ho acceso che fai Ti teletrasporti Oddio era tutto rossi Con questa skin è abbastanza inquietante Prendi il collirio Oh guarda Un uomo condannabile Oh guarda Un uomo condannato alla morte Troppo forte Oh guarda Nooo si è spenta In quel momento Merda Ma quindi la condannabile funziona In questa mappa si tantissimo Oh guarda Una donna condannabile Acquintato Partita giga Rushata C'è 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 Allora Prendo un invito Cerco la botola E condanno pure lei Guarda che occhio rossi che c'ha Ma sei un po' indintile E vinci Ma dove è la botola Eccola qua C'è un breakable Che comunque Fan fact Adesso guarda che si salva Sarebbe ridicolo Beh è quasi condannabile Chi sa un ragazzo sta Un breakable Vabbè ma vinto Ho vinto il game Cioè parti dal presupposto Che il game è vinto Può essere che scappi Questo si Però Oppure no Perché è in basement Cosa ci fa in basement Non so in quale è Però Però qua Non vuole solo farsi condannare Che è triste Sei veramente una persona triste Ma è solo una persona triste Questa Bisogna dire Solo quattro condanna Non te la faccio fare E voi la faccio zoomata Eh non si fa amorizzata Aiuto che ti beghi Questa è una cosa Ehm Grazie del follow Benvenuto Ti immagini se ci fosse un bug E mi facesse fare Il mori così E su Li ammazzate attaccandogli Non giunti vite Cazzo Ha scritto anche lui Edz It was Indeed Quanto ci hai messo A far crescere i capelli Boh Anni Don't kill me Bahahaha But you died Cosa vi dicevo Non mi hai ucciso Bahahaha Ha letteralmente detto Quello che ho scritto No he's entitled Entited Entited Hehehehe Vabbè Lasciamo stare Ciao Siamo così E basta No he's 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 No he's